Continua la disputa sulla chiusura dei punti nascita in Abruzzo. Il voto a favore della risoluzione che puntava a bloccare la decisione di governo centrale in Regione Abruzzo non è bastato a far cambiare idea all'amministrazione d'Alfonso. E proprio l'assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, annuncia la prosecuzione degli intenti. E l'uscita dal commissariamento. Bisogna spiegare a chi non studia, tra i quali appunto i consiglieri di 5 Stelle, che questa regione ha evitato il commissariamento del bilancio e sta uscendo dal commissariamento della Sanità quando altre regioni, tipo il Lazio, il Piemonte o il Molise o addirittura il default della Sicilia, entrano in una procedura molto più stringente. Pertanto io credo che vada rivendicato questo risultato. I quattro consiglieri della maggioranza che hanno votato contro il proprio capo di governo non sono stati sufficienti a far cambiare idea al Presidente di Regione. Esce successivamente un foglio che riporta a nero su bianco la volontà di proseguire l'opera di riduzione delle spese che porta a su di sé le firme di tutti i consiglieri, anche quelli che avevano espresso parere negativo. Qualcuno parla di contraddizione, qualcuno li accusa di tradimento alla volontà di cittadini e rappresentanti istituzionali. Attorno a questa vicenda si racconta del taglio del reparto di ostetricia. In realtà in quei quattro presidi resterà l'accoglienza ostetrica, ma si omette di raccontare che noi investiremo risorse umane, che noi adegueremo le sale parto di Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, di Avezzano, di Teramo e che quindi c'è un corposo investimento in infrastrutturazione, edilizia, strumentale, di risorse umane, la Stam, la Sten. Tutto questo si omette nel nome di una volgare strumentalizzazione fatta sulla pelle dei cittadini. Secondo l'assessore regionale è impossibile evitare la chiusura per poter uscire dal commissariamento e proprio il Ministero di Economia e Finanza provvederebbe di sua iniziativa al piano dei tagli. Va precisato che il mandato in sanità abruzzese è commissariale, ovvero i poteri non sono del Consiglio regionale, ma come abbiamo detto sin dal giorno del nostro insediamento sono governativi. e nell'ultimo tavolo di monitoraggio, quello dell'8 di aprile scorso, è stato nuovamente richiesto che per chiudere in questi sei mesi la procedura commissariale va riorganizzato, mettendoli in sicurezza il percorso nascita.